Jack, vuoi venire con me a ritirare il nuovo lettore DVD? Oh mio Dio, che giorno è oggi? Che cosa devo fare oggi? Che cosa stai guardando esattamente? Controllo la mia agenda mentale. No, no, scusa, non posso inserirti. Ti ho detto che col lettore DVD puoi guardare i film porno da ogni angolazione? Guarda, si è appena aperto il barco.